Sono lieta di annunciarvi un grande ritorno, Marsciano 7 Talk, il dibattito in diretta web dal nostro sito www.marscianosette.it Crisi e lavoro, sguardi da Marsciano, sarà il tema di questo nuovo appuntamento di Marsciano 7 Talk, a condurlo Alvaro Angeleri insieme alla sottoscritta. Quindi non dimenticate giovedì 19 aprile alle ore 21 in diretta web sul nostro sito www.marscianosette.it o dal vivo qui, dalla sala del camino del Museo Dinamico dell'Aterizio e delle Terricotte di Marsciano.